Noi abbiamo fatto l'hashtag, l'abbiamo creato e torneranno a risuonare le pentole ed è un'iniziativa più che altro a sostegno morale per i ristoranti. Sono già centinaia le adesioni alla pagina Facebook e torneranno a risuonare le pentole creata da Barbara e Enrico Chiezzi, proprietaria Siena di un laboratorio artigianale di pasta fresca. Loro fanno parte di quello che normalmente viene definito indotto. Vendono cioè il loro prodotto ai ristoranti, chiusi loro chiuso l'indotto e i costi non consentono di riconvertirsi in delivery. Siamo semi-industriali e quindi i nostri macchinari comunque hanno una capacità produttiva leggermente più grande quindi le nostre macchine prevedono almeno una cinquantina di chili di pasta ora anche facendo il minimo sindacale due ore di pasta almeno 100 kg di pasta escono. 100 kg giornalieri comunque non giustificano quanto invece è la richiesta in questo momento che è praticamente uguale a zero. Le spese non consentirebbero nemmeno di riaprire per rifornire quei pochi ristoranti rimasti aperti per la consegna a domicilio in quanto le richieste sono talmente basse che anche loro hanno tagliato i costi. Una situazione che perdura da un mese e di cui ad oggi non si vede la fine per il mondo della ristorazione che sarà probabilmente tra gli ultimi a riaprire. Noi guardando i fatturati dell'anno scorso siamo intorno tra i 10 e i 12 mila euro di mancato fatturato. Sicuramente se si proterrà anche aprile e forse maggio potremmo arrivare intorno ai 40 mila euro perché considera che comunque aprile e maggio c'erano ponti, c'era Pasqua. In un momento che definire difficile è un eufemismo Barbara e Enrico hanno lanciato l'hashtag motivazionale e torneranno a risuonare le pentole che in pochi giorni ha ricevuto tantissime adesioni di ristoratori senesi e non solo chi approfitta per dare consigli di cucina, chi un incoraggiamento, chi vuole anche solo esserci perché non sentirsi soli è meglio.